e amiche ed amici di Rete Autosport bentornati ad eccellenza on air la rubrica settimanale che va a trovare le squadre di eccellenza che parla del turno appena eh conclusosi ma soprattutto va a sviscerare quello che accadrà eh domani a meno di ventiquattro ore dal prossimo eh turno sono passate nove giornate e cambiata eh la capolista capolista che domani affronterà il derby il derby con eh l'Aquila al Gran Sasso d'Italia arrivano notizie confortanti e positive per quel che riguarda eh il tifo per quel che riguarda eh i biglietti staccati dalle due eh società dovrebbero essere circa novecento eh gli spettatori presenti appunto allo stadio e quindi questa è una bella notizia che sa eh di ripartenza ma che soprattutto eh sa di vero e proprio eh agonismo tra le due squadre un verbi storico che non deciderà assolutamente le sorti del campionato ma eh potrà darci delle indicazioni interessantissime io vado a salutare i miei eh ospiti li vado ad inquadrare un po' eh tutti eccoli eh qui parto insomma ecco riferendomi un po' anche alla eh schermata che anche voi state guardando eh da casa da Enzo eh eh Domenicis inviato di Rete Otto Sport che ci parlerà in generale di eh questo campionato ma soprattutto di quello che ci aspetterà domani domenica per la decima giornata. Buonasera Enzo benvenuto. Buonasera a voi e agli intervenuti. Claudio Cicchi esco di nuovo responsabile dell'area tecnica dell'Aquila Calcio insomma un'altra grande avventura. Ci siamo rispiti poco fa al telefono Claudio e me ha detto che si respira un'aria piacevolissima. Innanzitutto buonasera a tutti quanti anche a tutti. Certo è è un derby è molto sentito l'Aquila io sono da pochissimi giorni però già sto vivendo l'entusiasmo per questa partita anche per la squadra che sta vivendo un momento sicuramente esaltante. Spero che sia una bella giornata di sport domani e che magari venga eh la squadra che che gioca meglio. E sicuramente eh non non hai fatto il nome di questa squadra per una questione scaramantica però giustamente. Sono tifoso rosso blu lei. Esatto. A proposito di Claudio Cicchi perché c'è un legame c'è qualcosa di forte che vi lega e io lo voglio salutare con tanto affetto eh Marco Donatangelo. Ciao Marco grazie per essere intervenuto eh prometto massimo un'ora poi ti mando a letto altrimenti mister forti mi tira mi tira le orecchie diciamo così. Grazie grazie Lorenzo buonasera a tutti e anche soprattutto al direttore Claudio Cicchi saluto e ricordo grande affetto. Eh questa è la massima sportività da parte da parte di eh Marco. Continua il nostro giro Angelo Liberatore voce Aquilana e eh non solo per eh questa gara poi Angelo ci darai anche tu le ultime notizie soprattutto riguardanti eh quel che ho detto prima l'affluenza sarà eh enorme rispetto a quello che abbiamo visto negli anni eh passati soprattutto nel periodo del covid. Benvenuto ad eccellenza on air grazie nuovamente. Grazie a te dell'invito Lorenzo e buona serata ai telespettatori e anche agli ospiti della puntata. Sì parleremo poi dell'affluenza perché l'hai detto bene si prospetta una cornice di pubblico che poco ha a che spartire con l'eccellenza ma credo anche con la serie D insomma si potrebbe arrivare anche a numeri a quattro cifre. È questo e questo è sicuramente interessante. Dall'altra parte se Angelo ci riporterà le voci, le sensazioni e gli umori eh dell'Aquila una voce storica, un volto storico del calcio abruzzese ci racconterà sponda bianco verde, sponda Arizzano, quali sono i sogni, le aspettative della formazione di eh torti. Buonasera e benvenuto all'eccellenza on air a Plinio Olivotto. Ciao Plinio. Ciao Lorenzo, buonasera a te, buonasera ai tuoi ospiti. E beh sì, quando sarà il momento eh vi racconterò di che aria tira da queste parti. Per ora per ora che sensazioni che sensazioni ci sono? Cosa cosa si dice in piazza nei bar lungo le vie di Avezzano? Ma guarda c'è ehm l'aspettativa c'è non potrebbe essere diversamente visto che si tratta di un derby anzi del derby perché fra Avezzano e l'Aquila questo è il derby. Questa è la partita eh dell'anno del 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 secolo la partita di sempre e c'è mh tanta fiducia in casa bianco verde sia per quanto riguarda eh la squadra sia per quanto riguarda anche i tifosi. Eh non sarà una partita che deciderà il campionato perché ancora è troppo pesto. Però insomma eh ci tengono tutti eh innanzitutto a non perdere ma eh per quello che mi ha detto il presidente Paris ma anche l'allenatore Torti ehm tre quattro giorni fa eh loro eh partono per vincere poi eh se il campo ehm dirà qualche altra cosa ovviamente dovranno accettarla. Assolutamente assolutamente eh sì. Allora andiamo a vedere quello che è successo eh nella passata giornata guardando i risultati. Allora ve li vado a leggere Alba Adriatica L'Aquila zero a uno Angolana Lanciano uno a due il colpo grosso dell'Avezzano non eh per quel che riguarda ovviamente il eh risultato ma per il punteggio rotondo acquisito già dai primi minuti cinque a uno sul Villa duemila quindici la vittoria della Pagica Lupo sul Penne due a uno il colpaccio in questo caso dello spoltore zero a tre in casa del Casalbordino vittoria esterna anche questa eh molto importante del eh Montesilvano dei ragazzi di Antignani la conferma giallorossa del Giuliano va due a zero sul Ponte Romano un'altra vittoria esterna questa volta pesante dalla formazione di Giordani il capistrello che batte due a zero il San Buceto ed il pari pirotecnico tra eh Torrese e Cupello Torrese e Cupello forse era il big match almeno eh guardando i numeri della classifica per quel che riguarda la nona giornata la classifica dopo questo eh turno recita Avezzano ventitré capolista alla formazione di Torti seguito da un trittico formato da Giulianova Cupello e l'Aquila spoltore diciassette sedici per la Torrese a quindici l'Alba Adriatica di De Amicis Lanciano e Montesilvano a quota quattordici Delfino Curi Pescara e Bagigalupo a tredici Capistrello dieci Penne e San Buceto sette Angolana sei Casalbordino cinque Ponte Vomanure chiude il Villa duemila quindici a due punti vado a leggere il prossimo turno abbiamo detto l'Aquila Avezzano su tutte ma ci sono anche eh le gare tra Capistrello ed Alba Adriatica Cupello Bagigalupo come detto l'Aquila Avezzano Lanciano Giulianova che ricorda vecchi fasti ricorda una storia calcistica abruzzese che ha fatto davvero tante cose belle Montesilvano Sambuceto Penne del Fino Curi Pescara Ponte Vomano Casalbordino Spoltore Torrese un altro match da circoletto rosso secondo me e Villa duemila quindici Angolana torno da voi immediatamente e eh chiedo a Claudio Cicchi voglio partire da te eh Claudio se il match tra l'Aquila e Avezzano sarà un eh match tra virgolette eh decisivo almeno sotto l'aspetto mentale e psicologico perché una vittoria dell'Avezzano potrebbe forse eh causare qualche piccolo black out nella testa dei due ragazzi? Beh diciamo questo che non è come dicevano anche gli ospiti la partita decisiva perché effettivamente siamo soltanto nella prima parte del cambiamento però è importante importante perché una vittoria è un'inizione di fiducia non differente a tutto l'ambiente e quindi sono convinto che eh si giocherà assolutamente per i tre punti perché riteniamo insomma importante eh questo scontro diretto l'Aquila è pronta si è preparata in settimana nella maniera eh migliore e sono convinto che eh per averla vista anche nelle ultime tre partite possa veramente regalare ai propri sui studenti questa grande soddisfazione però sappiamo che abbiamo un avversario di fronte di tutto rispetto guidato purtroppo da da Marco Donizangelo che ho visto già da domenica che ha fatto vedere tutto il suo valore però pur rispettando l'avversario è evidente che la l'Aquila cercherà in tutti i modi di eh conquistare il successo pieno poi il campionato è lungo ma non è soltanto l'Avezzano che ci fa paura per questo campionato ci sono altre compagni di valore come lo stesso Giulianova eh anche se eh adesso ha fatto qualche partitiero ma è una squadra da rispettare e poi io vedo sempre la Torrice come una delle squadre favorite al successo finale quindi ci vediamo. Claudio eh domanda domanda d'obbligo perché hai tanta esperienza ed ovviamente hai tanti punti di riferimento e allora ti chiedo eh perché la scelta dell'Aquila e se dopo qualche giorno questa scelta puoi ritenerla azzecchiata soprattutto. Beh ti ringrazio che mi hai fatto questa domanda. Niente eh diciamo questo che dopo eh aver lasciato il Castelnuovo Romano dopo due stagioni veramente ricche di soddisfazione e di gioia e non pensavo certo di rimanere fermo ma invece il calcio è questo ho accettato con la massima dignità e quando è arrivato l'opportunità dell'Aquila non pensavo non immaginavo nemmeno io eh che società fosse. Invece sono arci felice di essere venuto all'Aquila perché ho trovato un ambiente di poco eh splendido con dei dirigenti eh che veramente eh sono sono ingomiabili sotto eh ogni aspetto. Poi una tifoseria eh veramente eccezionale quindi eh ci sono tutti i requisiti per fare bene anche perché poi è un progetto è un progetto alle spalle che non si ferma soltanto con la conquista della promozione in serie di che va oltre. Quindi eh per me è una nuova sfida ho accettato con grande entusiasmo e sono veramente felice di essere approdato in questa solitazione. Claudio eh è una mia ovviamente curiosità ma credo anche una una curiosità dei presenti e di chi ci ascolta e ci vede eh da casa. Per un matrimonio uno dei due eh deve fare il il primo passo. Eh il primo invito a schiena lo hai fatto tu o sono stati i dirigenti aquilani ad invitarti a casa per eh cercare appunto di di creare questo splendido con l'Uglie? Guarda prima dell'Aquila ci sono state eh altre situazioni che avevo preso in considerazione. Poi ho avuto modo che non ci dirai mai se se ti conosco bene. No poi ho avuto modo di riconoscere eh i gimelli Moscardelli Marco e Giulio e e devo dirti che sono rimasto veramente affascinato da queste due persone. Poi eh altre persone come il presidente, il co-presidente Gabriele Di Fusofono, l'avvocato, il vicepresidente Marchiero, il direttore generale Tosto e da tutti ho avuto la sensazione che si trattava della squadra, della società giusta. quindi per me anche se la distanza da casa non è che sia eh tanto vicino però eh ripeto ho accettato perché ho visto che alle spalle c'era questo progetto progetto importante. L'Aquila ehm fa male vedere questa società in eccellenza. Io penso che possa tornare ai fasti di un tempo. Quando? Non si sa. Però ci sono ripeto tutte le premesse per fare bene e per lavorare bene. Ho trovato anche eh un direttore sportivo come Elio Ciccorelli che mi ha accolto con tanta simpatia e tanto affetto e questo sicuramente mi ha fatto piacere perché l'area tecnica e il lavoro che ha fatto Ciccorelli è degno della massima considerazione. Cercherò di dargli una mano con la mia eh esperienza, col mio entusiasmo perché a settant'anni ancora c'è tanta voglia ancora di lavorare e penso che insieme veramente potremmo fare un ottimo lavoro. Claudio eh battuta velocissima però voglio un sì o un no eh me lo devi promettere ma da San Benedetto nemmeno un WhatsApp è arrivato? Ma San Benedetto ho parlato ho parlato con eh degli amici a San io sono andato a San Benedetto ho parlato con degli amici però eh ripeto non non conosco non conosco la la società quindi non conoscevo il presidente Renzi e quindi non ho fatto assolutamente niente per poter essere preso in esame però ripeto forse è stata una fortuna perché adesso eh ripeto non perché mi trovo ad Acro quella però sono veramente soddisfatto dalla scelta che ho fatto. Perfetto grazie Claudio torno tra poco da te chiedo ad Angelo Liberatore ha raccontato tutta la verità il direttore. Ma guarda Lorenzo assolutamente sì anzitutto lo saluto il direttore perché io nel giorno della sua presentazione ufficiale eh ero fuori eh turno al lavoro e fuori l'Aquila quindi ho potuto seguire la conferenza grazie diciamo agli strumenti tecnologici messi a disposizione eh della dalla società quindi la diretta Facebook e ha detto esattamente le stesse cose che aveva detto in conferenza stampa quindi assolutamente sì eh lo disse chiaramente il direttore qui c'è un progetto importante tra l'altro eh lui verrà a dare una mano a quella che è anche la crescita del settore giovanile che è un'altra articolazione importante del progetto l'Aquila e qui mi collego anche a quello che sarà il derby di domenica perché di derby l'Aquila Vezzano in realtà ce ne saranno ben tre domenica sette oltre alle prime squadre infatti si incroceranno sia le under diciassette che le under quindici delle due squadre e quindi diciamo una giornata all'insegna del rosso blu e del bianco verde ora non ricordo bene dove le altre due partite quali a Scurcola Marsicana quali a San Gregorio però insomma diciamo tre derby al prezzo di uno e per una rivalità sportiva storica geografica lo diceva bene Plinio anche prima questo per le due tifoserie è davvero il derby per eccellenza grazie 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 Angelo l'hai nominato poco fa Plinio Olivotto Plinio tra dodici minuti ti lascio eh davvero te l'ho promesso alle sette eh devi cominciare a fare ricominciare a fare a fare il il nonno che gara ti aspetti che gara ti aspetti soprattutto domani e cosa acquisisce l'Aquila in più con la presenza di Claudio Cicchi all'interno della compagine societaria beh l'Aquila sicuramente ci guadagna per quanto riguarda la partita che mi aspetto vedi in in circostanze del genere capita a volte che eh in questi incontri vengono vengano caricati troppo eh anche da noi della stampa eh per cui eh spesso accade di 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 vedere eh partite anche squallide io ovviamente spero che non sia assolutamente eh il caso di questa di questa partita perché insomma sono due squadre eh forse le migliori in assoluto insieme al Giulianova ecco io vorrei eh sottolineare che il Giulianova ha le stesse possibilità di l'Aquila e l'Avezzano ovviamente l'Aquila e l'Avezzano adesso sono lì eh a un passo l'una dall'altra e hanno il dovere anche nei confronti delle rispettive tifoserie di disputare un grosso incontro l'Avezzano sa come gioca l'Aquila l'Aquila sa come gioca l'Avezzano quindi eh non possono nascondere niente l'una all'altra ovviamente cercheranno di eh fare il meglio con i reparti migliori che hanno l'Avezzano eh inutile nascondere il reparto migliore eh è il il quello quello avanzato con perché l'Avezzano ha quattro attaccanti ne togli uno ne metti un altro e sinceramente non cambia assolutamente nulla o quasi eh l'Aquila invece eh ha una buona difesa ma anche un un ottimo attacco ecco l'Avezzano spera che magari di Ruocco non giochi quantomeno giochi subito perché eh di Ruocco insieme a Dercole eh è una delle armi eh che l'Aquila utilizzerà sicuramente per scartinare la eh difesa bianco verde e l'Avezzano per proprio conto eh ultimamente ha ingaggiato Donatangelo e Donatangelo in due partite è diventato io dico un leader perché eh si è imposto subito con eh la sua mentalità ecco vedi l'Avezzano tecnicamente non aveva ehm niente di meno rispetto alle altre eh squadre però aveva un ritmo a volte troppo compassato eh eh è quel tipo di 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 ah quel tipo di giocatori che magari si mettono davanti allo specchio e dicono oh come sono bello come sono bravo invece Donatangelo appena è arrivato ha portato una mentalità diciamo più più ehm più da da guerriero no? Lui dà l'esempio eh è quello che eh va a recuperare palla eh si propone sempre eh tu lo vedi quando quando c'è eh qualcuno da eh al quale affidare il pallone il primo che si propone è Donatangelo ripeto due partite soltanto però insomma se il buongiorno si vede dal mattino eh tutti dicono che questo è il migliore acquisto che ha fatto l'Avezzano sicuramente eh in questo campionato adesso deve dimostrarlo con avversari eh alla sua altezza con avversari chiaramente più forti e e la partita di eh domani capita esattamente eh a fagiolo come si dice quindi Donatangelo dovrà dimostrare di eh meritare le lodiche eh tifosi e anche tecnici gli stanno riservando in questi in questi ultimi giorni. Allora io vado proprio da Marco eh apro e chiudo parentesi deve offrire una cena a Plinio eh perché ha fatto un cappello su di te straordinario eh e stessa cosa credo eh sia nella testa nei pensieri di 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 Claudio di Claudio Cicchi. Marco innanzitutto come stai? Plinio insomma racconta le vicende dell'Avezzano e eh come detto Voganzi eh ti disegna come il fulcro principale di questa squadra da quando sei eh arrivato visto che eh i campionati nei vinti nei vinti parecchi eh Claudio lo sa benissimo che partita sarà ovviamente non sarà decisiva ma mentalmente cosa potrà portare a chi la vincerà di positivo e quale scorie lascerà invece ai vinti? Allora innanzitutto ringrazio ovviamente per il cappello eh devo dire che qui sì sto bene sono arrivato da poco però in quel poco tempo diciamo abbiamo avuto subito due partite ravvicinate quindi ho avuto subito occasione di giocare questa facilitata anche un po' la mia integrazione ma comunque ho trovato un gruppo estremamente costruito bene di giocatori forti e quindi appena anche di bravi ragazzi e quindi è stato più facile inserirmi. Ovviamente sono solo due partite domenica giochiamo questo bello derby che qui è sentitissimo con l'Aquila e sarà già un banco di prova più che importante. Di solito Marco nei derby i tifosi avvicinano i giocatori e chiedono un qualcosa no? Eh vincete il derby con l'Aquila, vincete il campionato eh lì eh ad Avezzano che che aria si respira? Eh ovviamente eh come poi confermerà anche il nostro angelo liberatore quasi arruba i tagliandi riservati ai tifosi eh bianco verdi però ecco c'è più la sensazione eh di voler vincere un derby o eh c'è più la volontà, la voglia e il bisogno di cambiare categoria, scalare l'eccellenza e arrivare in Serie D. Ma qui non basta più vincere una gara ecco questo voglio dire. Certo no qui c'è comunque entusiasmo ma entusiasmo diciamo che prescinde un po' dalla partita di domenica. Poi certo domenica è una partita diciamo anche del campanile quindi essendo un derby è normale che magari c'è un po' più di attenzione però secondo me è più la seconda che hai detto nel senso che Avezzano è comunque una piazza importante come lo è l'Aquila dove la gente è innamorata del calcio e quindi di conseguenza auspicano il set di categoria come giusto che sia. Assolutamente sì eh Plinio eh visto che eh abbiamo ancora con te eh circa sei minuti eh non so se hai delle curiosità per eh Marco o Donatangelo o se vuoi cercare ovviamente ma c'è Cicchi con le orecchie aperte non credo che proferirà parola sulla eh questione tattica e tecnica di domani Marco Donatangelo però ti lascio il microfono aperto per questi eh primi ultimi anzi cinque minuti per te eh non solo a Marco ma anche a tutti gli altri ospiti. Senti io intanto una curiosità eh te la dico subito subito perché sono andato ad intervistare eh per il centro il presidente Paris l'altro ieri e eh gli dicevo presidente ma tu un derby con l'Aquila nella tua gestione ovviamente nel corso della tua presidenza quasi dodici anni non l'hai mai vinto e lui mi ha detto aspetta no non è che non l'ho vinto ne ho vinto uno nel duemiladiciassette ma era la Coppa Italia quindi in campionato eh l'Avezzano targato Paris non ha mai vinto contro l'Aquila ha ha ottenuto qualche pareggio e qualche sconfitta quindi è un un neo nella eh della della presidenza Paris e lui ha detto io spero di cancellare questo zero quanto prima magari già domenica prossima già domani e e ovviamente questo è un dato statistico importante eh ovviamente eh Claudio ha afferrato il primo pezzo di ferro lì sulla scrivania però eh insomma eh ecco non era a conoscenza eh di questo dato statistico anche se in diversi anni le due squadre eh non si sono incontrate in campionato perché ovviamente disputavano gironi diversi o categorie eh diverse però ecco è un dato è un dato importante una curiosità per eh per Marco Plinio allora sì allora eh parlavo anche con Sassarini eh l'intervista uscirà domani sul centro eh Sassarini mi diceva appunto anche lui sottolineava l'importanza dell'arrivo di Marco Donatangelo perché come ho detto in precedenza il centrocampo della Pezzano era eh qualitativamente eh di livello superiore però mancava un po' di 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 quella sana cattiveria che è necessaria in campo per ottenere quel qualcosa in più e pare che Donatangelo appena arrivato questa mentalità l'ha portata eh lui eh si propone sempre lui eh accelera il gioco eh insomma è diventato in poco tempo un leader tanto è un leader tanto è vero che molta gente si è domandato ma il Chieti come ha fatto a far partire Donatangelo cioè questo è è di categoria superiore l'ha dimostrato quindi perché eh a Chieti se lo sono fatto a scappare sembra quasi un controsenso però sai i misteri del calcio sono sono veramente le dinamiche all'interno delle società le dinamiche all'interno delle società cambiano no? Esatto. Noi 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 percepiamo solo qualche spiffero nel momento in cui si aprono le finestre o le porte però poi il nocciolo se lo possiamo chiamare così del problema eh lo conoscono solo solo i diretti interessati però eh è vero Marco Donatangelo un giocatore di esperienza un giocatore che ha vinto tanti campionati eh è vero tanta grinta tanta corsa però credo eh che la dote principale eh è quella di essere un giocatore eclettico eh capace di ricoprire più zone del campo e e soprattutto questa esperienza questa eh questa capacità di 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 sapersi calare immediatamente in realtà eh diverse a prescindere poi eh dai i gironi o dalle eh categorie. Eh Plinio eh credo di essere di essere perfetto nei tempi eh per questa per questa tornata io ti ringrazio di cuore però non posso eh lasciarti andare senza un pronostico data e vista la tua esperienza. Eh bella domanda questa è la classica partita da uno X2 che può essere decisa con eh in qualsiasi momento eh al primo o anche al novantesimo perché ho visto le ultime partite dell'Aquila eh quella di di della settimana scorsa ha segnato a quattro cinque minuti dalla fine l'Aquila quindi eh il pareggio eh ci sta eh tutto eh almeno speriamo se dovesse venire il pareggio che che sia un un pari e condito da due tre quattro gol per fatto almeno eh ci divertiamo anche noi poi chiaramente il campo dirà quello quello il 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 risponso del campo è inappellabile. Dove sarai impegnato Plinio tu domani? Eh domani a Capistrello io seguo anche per voi lo sai la pezzana e il Capistrello che meno male quest'anno si sono eh intervallate giocando in casa per cui eh ho la possibilità di seguirle tutte e due ma chiaramente un occhio sul campo del Capistrello ma l'orecchio per sentire le notizie che vengono dall'Aquila. Perfetto grazie Plinio Ligotto per eh questo breve ma intenso report non solo sull'Avezzano ma sul campionato in generale buona serata con i nipotini ti tocca ti tocca fare il no ma d'altronde se la domenica sei sempre impegnato con questo pallone maledetto che rotola sui suffi d'erba nei giorni precedenti o in quelli successivi devi accontentare i piccolini. Grazie Plinio buona grazie a voi buona serata ci vediamo domani ovviamente grazie arrivederci allora l'aveva nominato Plinio il Giulianova ed eccolo qui Enzo De Dominicis che Giulianova conosce eh benissimo può essere la terza incomoda la formazione giallorossa? Allora io non so se può essere la terza incomoda per il momento lo è lo è per perché la classifica dice questo perché il gioco espresso da questa squadra ma anche l'affluenza di pubblico che si sta avendo a Spadini è sicuramente notevole si parlava di novecento biglietti staccati domani all'Aquila eh Giulianova eh gli spedatori eh da settecento e novecento e mille sono stanno diventando quasi una costante per cui eh diciamo che per eh per effervescenza sicuramente la piazza di Giulianova in questo momento può godersi questo momento magico no? Eh sappiamo tutti che l'Aquila e Arezzano eh sono due team che hanno eh giocatori di di primissimo livello e soprattutto hanno delle ambizioni che non sono quelle del Giulianova. Il Giulianova si presenta come outsider, il Giulianova si presenta come la squadra che per il momento deve stupire innanzitutto se stessa e il proprio pubblico. Poi se può rivolgersi a qualche altra squadra benvenga. Del resto eh è la piazza stessa che è abituata a vincere, che è abituata a stare in auge, è una piazza che è stata sempre ambiziosa. Il presidente però e questa società lo hanno sempre detto, lo hanno sempre ribadito carissimo Lorenzo, anche quando sono venuti con noi in studio, anche quando sono stati intervistati. È inutile eh stare a sbandierare chissà che cosa quando effettivamente nella programmazione a lungo termine c'è sicuramente quella di eh raggiungere qualche traguardo prestigioso, ma non quest'anno. Anche se è vero che il ventidue punti con sette vittorie, un solo pareggio tra l'altro in casa ha buttato eh ha buttato una vittoria con il calcio di rigore sprecato ed una sconfitta da Rettano che è maturata con curata insomma. Per cui penso possiamo chiamarla una fase di pre-innamoramento, cioè eh far tornare come primo obiettivo questo feeling, questo amore tra piazza e squadra dopo quello che è successo negli anni passati con tante contestazioni, insomma la vicenda Bartolini, i litigi, i bisticci con l'amministrazione comunale, quindi ecco possiamo dire che forse questo è l'anno zero del Giulianova per tentare principalmente di ricreare un gruppo squadra e una simbiosi con una piazza per poi chissà negli anni successivi tentare la zampata vincente. Sì, hai letto bene Lorenzo, hai detto bene perché questo non solo è l'obiettivo della società ma è assolutamente quello che deve fare in questo momento Giulianova, non dimentichiamo che eh Giulianova è una squadra, Giulianova è una squadra low cost, quindi deve per forza ricostruire questo tessuto calcistico che l'ha sempre caratterizzata, deve ricostruire eh il tessuto delle squadre giovanili e da lì ripartire per poi implementare qualcosa di più, attirando allo stesso momento in questo in questo attimo il pubblico e c'è sicuramente un feeling, c'è sicuramente entusiasmo e eh probabilmente in seconda battuta qualche imprenditore che vuole riaccostarsi e che vuole dare un aiuto maggiore a quello che stanno facendo di Carlo e eh il presidente Alessandro Mucciconi, quindi condivido assolutamente con te quello che hai letto. Eh torno un attimo da Claudio Cicchi, Claudio eh ti elenco un po' di nomi che hanno eh campiato casacca in questi giorni, ovviamente ci ci metto anche quello di Marco Donatangelo e i giocatori che sono tornati eh in in appunto. L'angolana eh prende eh pasta figlia e notizia delle ultime ore torna dal Veneto anche Giacomo eh Casati. Dariuc dal da Varezzano Valzora, il Villa 2015 prende Mioffice proprio pizza classe eh novantasette, l'Aquila in Mantini classe novantotto ma questo insomma eh lo sai lo sai benissimo anche tu. Il Casalbordino Nando Giuliano e Andrea La Selva che aveva disfrutato un paio di gare con eh l'angolana. Mentre il posto marina riabbraccia Batavu e eh D'Adamo. Allora escludiamo Marco Donatangelo perché saresti completamente di parte ma qui secondo te ha fatto il movimento più interessante tra questi? Ma ehm non vedo sia il caso di fare e dare un giudizio sulle squadre avversarie e anche quelle squadre minori perché probabilmente hanno si hanno fatto dei movimenti proprio perché magari eh pensavano di che fosse la cosa giusta da fare. Per quanto riguarda noi invece Mandini è un ottimo acquisto eh Cicurelli lo ha individuato tra i centrocampisti che erano ancora liberi e un ragazzo che ha fatto la Serie C con la Teramo e la Fermana e c'ha anche eh alle spalle diversi campionati in Serie T tra cui eh uno a Castelfi d'Ardo dove fece anche cinque gol. Un giocatore che sicuramente potrà eh dare un grosso apporto alla squadra anche perché è di di Aquila quindi è proprio un Aquilano puro sangue quindi questo ci fa immensamente piacere. Tu non mi fai parlare di Marco ma ti ti racconto un aneddoto eh importante invece su Marco Donatangelo eh una sera sono stato a cena con Cristian Cacciatore giocatore del Benne che io ho avuto per tre anni e che mi ha fatto vincere qualche campionato e mi disse senti se ti serve un centrocampista prendi Donatangelo perché è il più forte di tutti. Io ricordo che gli ritirezza lo seguì questo ragazzo e infatti lo portai a Castelnuovo Pomano e grazie al suo aiuto ci ha fatto vincere il campionato. Quindi lo rivedrò domani con immenso piacere perché eh ricordatevi che Donatangelo oltre a essere un grosso giocatore è anche un bravissimo ragazzo e questo ho conosciuto anche i suoi genitori bravissime persone e questo penso che nel calcio possa contare veramente molto. Ma questo stesso eh dico che fa fa la differenza soprattutto nei momenti eh meno felici non solo sportivi no? Quando c'è bisogno di dare quella spinta in più soprattutto a livello a livello eh mentale. Ma tu Claudio non hai provato eh a portare Donatangelo all'Aquila? Non ero ancora arrivato Lorenzo. Non ero ancora arrivato ma comunque eh ripeto lì all'Aquila oltre a Giampaolo che è sicuramente un tecnico di assoluto valore c'è Ciccorelli che insomma conosce bene questo campionato e comunque non ero arrivato. Sa lui bene come muoversi e dove muoversi. Comunque di questo nome a l'Aquila c'è un giovane un giovane del duemila Camporelli che io non conoscevo affatto e che mi sta stupendo veramente tanto. Io penso che sia la nota più lieta di questa avvio di stagione perché eh sta dimostrando di avere tutti i numeri anche se ha già giocato in categoria superiore come Avellino in serie C. Penso che abbia tutti i numeri per arrivare in alto. Guarda già l'ho segnato eh poi non so se Angelo Liberatore se Angelo Liberatore conosce e conosce questo questo eh ragazzo. Allora io vi faccio rivedere il prossimo turno eh abbiamo sviscerato eh credo quasi a tutto tondo il match tra eh l'Aquila e eh Avezzano eh che è un match che secondo voi non so se siete d'accordo con me eh nel citare appunto Spoltore Torrese però c'è secondo voi un match a prescindere dalla classifica che possa eh tirare fuori degli argomenti interessanti in questo decimo turno lo chiedo a Enzo De Dominicis e poi faccio un giro ovviamente. Ma hai citato Spoltore Torrese eh e lì sono assolutamente d'accordo. Voglio vorrei vedere eh mi piacerebbe dando un'occhiata proprio alla bassa classifica a Pontevomano Casalbordino perché diciamo gli squilli di riscossa del Casalbordino ma anche del Pontevomano che ho visto giocare in quattro giorni eh sono abbastanza interessanti. Sono due squadre che eh secondo me um hanno occupa una posizione in classifica non consone alle alle loro possibilità ma anche comunque al gioco che esprimono per cui eh senza parlare di parte alta dove come hai detto tu ci sono delle delle gare interessanti no? Liderbi, Lanciano Giulianova, Spoltore Torrese. Però questo questa sfida tra Pontevomano e Casalbordino è un una sfida eh da seguire con un occhio con un occhio particolare perché qualcuna delle due potrebbe eh diciamo ripartire come si deve. Per te Angelo invece quale potrebbe essere il match da attenzionare oltre ovviamente i big match che abbiamo già detto? Angelo ci sei? Forse abbiamo abbiamo perso la connessione con Angelo. Allora guarda vado da Marco Donatangelo. Marco secondo te qual è il match da attenzionare un pochettino dopo dopo i due che abbiamo detto? Il tuo con l'Aquila e e quello trasportore Torrese. Eh secondo me anche Lanciano Giulianova è una partita secondo me da tenere d'occhio. nel senso che comunque il Lanciano Giulianova sta facendo un campionato meraviglioso. Il Lanciano è una classica squadra che tutti conoscono un po' le difficoltà che vivono però comunque è una squadra che negli undici è costruita bene. Quindi secondo me sarà una bella partita anche perché giocano entrambe molto bene. Eh sì eh anche questa effettivamente è una gara da attenzionare. Abbiamo ripreso il collegamento con Angelo liberatore. Angelo eh chiedevo e lo chiedo anche a te ovviamente eh oltre ai due big match che riguardano l'alta classifica eh per Enzo De Dominicis e da evidenziare lo scontro in zona bassa tra Ponte Romano e Casal Bordino mentre Marco ha detto questo Lanciano Giulianova che come detto in apertura ricorda anche eh vecchi fastino per le due eh società. Eh io eh te lo chiedo facendo ripassare un po' ecco quella che è la schermata del eh turno di domani questo Montesilvano Sambuceto eh potrebbe potrebbe uso eh naturalmente il condizionale mettere in difficoltà un mister rodato come Donato Ronci perché i risultati insomma eh non sono non sono così belli per i viola. Ma guarda il Montesilvano allora noi lo abbiamo visto giocare all'Aquila proprio all'inizio della stagione la partita finì 4 a 1 però poi parlando con mister Davide Antignani nel post partita insomma sono venute fuori cose interessanti anche in questo caso rispetto a una parola che abbiamo usato molto spesso che è progetto ossia il Montesilvano eh ha una rosa di prima squadra che comprende anche quella che è la l'Under 19 la Juniors insomma ehm il fatto che ci sia questa attenzione ai giovani questo poter giocare con spensieratezza poter contare su Antignani che alla bisogna si è anche rimesso gli scarpini da gioco non ricordo se nell'ultima o nella penultima partita insomma avere lui a gara in corso sì esatto avere lui sia come allenatore che come uomo trascinatore in campo ehm può fare la differenza e soprattutto mi viene in mente il fatto che il Sambuceto comunque non sia stata propriamente costruita per trovarsi diciamo in una posizione di classifica così difficoltosa quindi questo diciamo nel momento in cui ti trovi a dover fare i conti con una situazione che non è quella che è possibile. Scusami se ti interrompo Angelo eh soprattutto dopo le eh correzioni le chiamo eh così no di Pellecchia e Miciche eh l'obiettivo non può essere ovviamente solo ed esclusivamente quello della salvezza. Esatto anche se e qui mi ricollego alle parole di Donato Ronci nel post partita di l'Aquila Sambuceto appunto in questo momento i Viola pur avendo fatto diversi aggiustamenti si sono trovati numericamente corti per via appunto di infortuni problemi vari e del fatto che si sta giocando ogni tre giorni e quindi diciamo c'è anche poco spazio per per arrivare a recuperi completi. Insomma ci sono tante situazioni che potrebbero venire fuori e diciamo essere messe a posto o non a posto dipende appunto da come andrà questa partita che però diciamo si si prospetta come una partita magari non appariscente ma che lo abbiamo detto ha molto eh molti profili di interesse al al suo interno e a me interesserebbe anche molto Bagigalupo Cupello per anzi Cupello Bagigalupo scusa perché perché il Cupello domenica pareggiato all'ultimo con la Torrese sarei curioso di vedere eh la reazione dei ragazzi di Carlucci che finora hanno comunque dimostrato di essere una squadra che non teme nessuno e che soprattutto gioca a calcio dal primo al novantesimo e lo abbiamo visto anche all'Aquila nel momento in cui il Cupello è venuto a fare il risultato pieno al gran sesso. Eh Claudio lo chiedo a te eh ovviamente eh memoria storica eh Cupello che ha rallentato ha rallentato però eh dopo due gare molto insidiosi eh la sconfitta con lo spoltore nel turno infrasettimanale e poi eh l'altro turno in esterna con la Torrese due a due dopo essere eh stato in doppio eh vantaggio eh sono risultati che ci possono stare durante eh un percorso anzi questi risultati potrebbero un attivino far crescere ancora di più la consapevolezza della formazione di Carlucci. Beh non bisogna assolutamente dimenticare che mi pare che nelle prime sette partite il Cupello abbia sempre vinto eh dimostrando di essere di avere equilibri nella squadra in tutti i reparti. Quindi ha fatto sicuramente una partenza veramente esaltante e ci può stare insomma una sconfitta e un pareggio. Domenica tra l'altro stava vincendo per 2 a 0 a Giulianova contro la Torrese e poi eh si è fatta raggiungere se non sbaglio solamente al novantatresimo da sul rigore sul calcio di rigore. Quindi è una squadra che secondo me eh non ha le carte le carte regola per poter lottare per la promozione ma penso che il lavoro del mister sia assolutamente lodevole e che possa veramente arrivare tra le prime della classe anche perché non ci si trova in seconda posizione dopo nove giornate se non si hanno dei veri e propri valori. Questo per quanto riguarda il Cupello. Invece per la quanto riguarda la partita io condivido il pensiero di Marco Donatangelo. Penso che Langiano Giulianova sia una bellissima partita perché il Langiano io l'ho visto un paio di volte ha una grandissima difesa mentre il Giulianova ha dei giovani di 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 valore che eh veramente stanno andando a mille. Complimenti a mister Cerasi che eh con tanti ragazzi è riuscito a mettere su un organico degno eh del massimo valore. Ragazzi che io conosco perché eh molti giocavano proprio nelle giovanerie dell'Ascoli dove Cerasi ha sempre lavorato e molto bene. Eh però c'è un ragazzo eh che si sta mettendo particolarmente in luce e sta segnando tanti gol ed è Kevin Buonavoglia che io l'anno scorso volevo portare eh Castelnuovo Umano che poi invece andò a finire notare. Questo è un altro giocatore che ti puoi annunciare perché ha tutti i requisiti per sfondare nel mondo del calcio. Sì giocatore davvero interessantissimo eh al pari secondo me di eh Sissè e Giglio non so se Enzo Sissè pure Cipriani eh Sissè pure Cipriani Cipriani esatto. Cipriani del Teramo 2002 che ha fisico classe ma comunque ripeto il merito è di Cerasi un tecnico che ha fatto suo. Eh sì Claudio e soprattutto eh ho evidenziato sempre eh il savoir faire dello stesso Cerasi che in ogni intervista non solo analizza perfettamente eh quelli che sono i meriti e i meriti della propria squadra ma racconta a menadito eh tutta la gara. In un minuto e mezzo Enzo lo sa benissimo durante le sue interviste riesce a far capire anche senza l'ausilio delle immagini quello che è accaduto venti minuti venti minuti prima. È anche questo il suo punto di forza Enzo? Sì lui è un profondo conoscitore eh del calcio e di quello che fa eh per cui è una persona un grande lavoratore per cui è molto onesto tra le altre cose per cui non si pone mai con presunzione e questa eh sincerità questa onestà intellettiva eh lo rende anche eh molto molto pratico ma molto apprezzato per cui la squadra lo segue la squadra è messa in campo la squadra segue quello che dice l'allenatore e soprattutto lui è uno che sa sistemare i giocatori in base al proprio ruolo quindi è è difficile che faccia giocare se non per necessità qualche giocatore fuori ruolo per cui questo è veramente un eh un allenatore eh che è un signore anche fuori fuori dal campo. Attenzione però perché hanno detto che quando si arrabbia si arrabbia davvero ed è questo quello che dovrebbe fare che deve fare un allenatore. Soprattutto quando si arrabbia la persona che notoriamente calma vuol dire che c'è qualcosa che non va. Esatto lui lui è lui è mi ha colpito praticamente mi ha colpito una una cosa non so se è la stessa impressione dei nostri eh ospiti. Eh l'identità di gioco rimane sempre sempre quella a prescindere dagli interpreti il Giulianova gioca con lo stesso piglio la stessa eh lo stesso dinamismo eh la stessa capabilità va a cercare sempre eh la porta con lo stesso lo stesso metodo. A volte potrebbe essere un limite ma eh per ora quello del Giulianova sicuramente un roster che sta impressionando tutti e secondo me come ha detto Claudio Cicchi molti di questi giocatori potrebbero eh ambire da qui a qualche mese a categorie più importanti adesso. Senz'altro il gioco di Cerasi è un gioco che valorizza il giocatorio quindi lascia esprimere le potenzialità di ogni giocatore e questo è molto importante per cui una piazza attualmente non una piazza diciamo attualmente avere un allenatore come Cerasi che comunque i giocatori li fa esprimere ehm è molto importante per un giocatore che vuole mettersi in mostra ma è anche importante per eh coloro che ambiscono eh soprattutto a dare un significato alla alla propria prestazione e lui è uno di quelli come dici tu che per esempio eh ha un credo calcistico e interpreta lo lascia interpretare liberamente ai giocatori come vogliono per esempio il caso di Di Giuseppe che lui schiera tranquillamente a sinistra nei tre d'attacco oppure schiera come quarto ehm difensore nei quattro di difesa e lui Di Giuseppe riesce a fare bene sia in difesa sia in attacco senza passare come centrocampo per tiro per cui questa è anche una qualità del mister quella di saper trarre il meglio da ogni giocatore assolutamente ci sono molte ma molte molti ma molti meriti la parte di ehm di Cerasi assolutamente assolutamente sì allora a Marco Donatangelo eh chiedo eh c'è qualche punto di incontro eh tra questo Avezzano che naturalmente eh stai vivendo da poche settimane è quel Castelnuovo cioè cosa vedi di simile per tentare anzi per poter dire eh anche quest'anno posso vincere un campionato stavolta con la maglia dell'Avezzano? Beh le similitudini le ritrovo soprattutto in un tipo di mentalità che magari uno che gioca ad Avezzano tra virgolette le persone se lo aspettano eh invece magari Castelnuovo no era però sicuramente c'è un'unica mentalità eh che è quella comunque di guardare domenica dopo domenica e pensare a vincere ogni partita a prescindere dai valori e dalle varie situazioni questo sì l'ho trovato comune nonostante diciamo ci sia un divario di età importante dalle due squadre sì questo questo assolutamente eh in tanti ehm danno dei giudizi eh anche anche negativi sul carattere del eh presidente eh Paris il tuo rapporto con lui eh sotto l'aspetto umano invece eh com'è? Com'è stato inizialmente e come eh come si sta svolgendo adesso dopo dopo qualche settimana di presenza lì in Marsica? no è uno che vuole vincere sempre questo questo lo possiamo dire tranquillamente sicuramente una persona ambiziosa però io mi sono trovato bene da subito ovviamente lo conosco da relativamente poco però comunque mi ha fatto già un'impressione più che positiva di una persona ambiziosa e che però comunque si fida di giocatori e sostiene la causa e poi c'è questo questo secondo me collante che ha un nome un cognome specifico Luigi Ridolfi che forse non voglio dire faccia da facere però è lì in mezzo no tra il gruppo squadra e la società per cercare di trovare l'equilibrio giusto e fare arrivare all'approdo in porto col col mare col mare molto ma molto tranquillo sì sì anche la figura del direttore lui tra l'altro c'è molto vicino sempre al campo e sempre attento quindi diciamo lui fa più la parte sul campo il presidente e comunque sa essere presente a modo suo Marco c'è un giocatore che non conoscevi all'interno del gruppo squadra Avezzano che ti ha che ti ha stupito in positivo non parlo solamente dei giovani ma ci sono anche tanti over esperti che casomai giocavano in altri campionati e che non conoscevi ovviamente al cento per cento visto che tu sei stato spesso e volentieri in Abruzzo sì sì sicuramente ci sono tanti giocatori e tutti veramente veramente forti di di ottimo livello e anche magari quelli che conoscevo per averci giocato contro non li avevo apprezzati così bene nel momento in cui ci siamo ritrovati nello stesso sfogliatoio e uno che non conoscevo che per me un po' tra virgoletto una sorpresa forse è pesata nel senso che non non ce l'avevo ben presente invece mi ha impressionato mi ha veramente impressionato per soprattutto per tante qualità so che non ci sta ascoltando e quindi puoi parlare liberamente dove può arrivare braghini scusa lorenzo può arrivare braghini braghini a lui è un altro giovane di valore peraltro molto giovane perché lui in 2003 lui è secondo me tutti i numeri per poter sfondare gli deve continuare a lavorare come fa perché comunque oltre a avere grande qualità un ragazzo molto disponibile e continuando a lavorare secondo me con la fortuna giusta può veramente toccare altri campi e sicuramente ascoltare i consigli di giocatori più esperti uno su tutti Marco Donatangelo a livello di piazza Angelo Liberatore cosa farà la curva qualche qualche sorpresa in servo per ovviamente i ragazzi di Giampaolo ma anche per noi che seguiremo il match allora non ci sono stati rumors della vigilia però sicuramente qualcosa verrà fuori e penso che il fatto che non ci siano state anticipazioni sia per aumentare anche l'effetto sorpresa e per i ragazzi dell'Aquila e anche per diciamo gli avversari per i 90 minuti che ci aspettano domani alla Gran Sasso a Concia certo è come dicevamo all'inizio Lorenzo che sarà un cornice di pubblico importante perché siamo attorno alle 900 presenze dovrebbero essere questi numeri credo anche di più perché mi spiegavano che c'è la la prevendita sulla piattaforma conteggiava addirittura un biglietto per tre posti i puntini grigi che indicavano i biglietti venduti erano diciamo quasi la totalità almeno per quello che riguardava la tribuna e anche buona parte della curva quindi diciamo secondo me come ti dicevo a inizio trasmissione si potrà andare sì probabilmente anche sopra le mille unità da Avezzano dicevano che la prevendita andava molto bene che probabilmente ci sarebbe stata la richiesta e anche in questo caso accolta dall'Aquila di un surplus di biglietti insomma credo che stavolta ci sarà davvero da divertirsi non solo in campo ma anche sugli spalti poi angelo giornalista sei un professionista tutto tondo e allora ti chiedo mi dai anche qualche informazione eh relativa al al meteo perché eh non ce lo possiamo nascondere nel periodo autunnale in quello invernale l'eccellenza abruzzese forse soffre un po' eh sotto questo punto di vista a livello domani che giornata sarà guarda Lorenzo all'Aquila ha piovuto negli ultimi giorni ma credo sia comunque un falso problema la tenuta del del manto erboso sintetico del Gran Sasso l'abbiamo già testata quando ci fu la notturna con il cupello che si giocò sotto veramente a tratti un un vero e proprio nubifraggio eh magari ci potrebbe essere più freddo perché ormai siamo a novembre però con 90 minuti di corsa e di lotta su ogni pallone credo che i giocatori penseranno a tutto meno che al meteo magari il problema sarà più per chi sarà sugli spalti però anche lì diciamo il fuoco del tifo lenisce ogni problema assolutamente allora vado da Claudio eh anche qui eh domanda secca risposta secca chi potrebbe essere Claudio da parte vostra il man of the match eh del derby eh di domani ne dico uno a costa guarda tu sei bene che eh domani si affrontano la squadra che è il migliore attacco del girone e la ventana è quella che ha la migliore difesa che l'Aquila in tema al cupello non lo so per quanto riguarda l'Aquila io penso che tutti eh possono dare il loro apporto eh parlava prima il eh l'amico che sperava appunto di Rocco eh domani non giochi eh la forza dell'Aquila non è il singolo giocatore ma il collettivo quindi io sono convinto eh che possono andare in gol chiunque anche perché già Paolo fa giocare talmente bene la squadra mette in condizione tutti quanti di andare a rete ma io penso che a costa possa ripetere il bis di domenica scorsa ad Alba Adriatica ogni tanto Claudio ho i tuoi stessi pensieri ho buttato lì un nome e pare pare che anche da parte tua ci sia lo stesso lo stesso eh pensiero la stessa domanda che ha fatto che ho fatto a Claudio prima della chiusura la faccio la faccio a Marco Donatangelo Marco secondo te che potrebbe essere per voi il giocatore decisivo ne avete tanti e come l'Aquila ovviamente sì sicuramente un po' lo stesso discorso nel senso che partite come queste tutti quanti devono dare i loro contributi e tutti quanti possono avere la differenza se darai delle indicazioni visto il match dell'anno scorso anche se si parlava di un girone eh ristretto però eh ecco tu l'anno scorso eh hai sbancato il gran sasso d'Italia con eh un'altra maglia quella del del Chieti quale potrebbe essere il primo consiglio? Eh non lo so tendenzialmente cioè ovviamente noi in squadra abbiamo un sacco di calciatori che hanno calciato campi molto più importanti di quelli che ho calciato io quindi diciamo che consigliarli è difficile eh quindi non so però un nome me lo devi fare Marco un nome me lo devi fare anche il tuo eh ovviamente secondo me lo Santos potrebbe che è il capo cannoniere di questo girone girone eccellenza che insomma ha accolto tanti giocatori eh provenienti dalla serie di secondo me il livello si è si è notevolmente eh alzato e la classifica così corta soprattutto lì davanti ce lo sta ce lo sta a dimostrare Enzo tu domani dove sarai? A Lanciano. Ah e che partita ti aspetti? Vabbè eh Lanciano Lanciano Giulianova lo ha detto Marco lo ha detto anche Claudio che gara sarà secondo te? Eh secondo me io potrebbe avere delle difficoltà relative al al fondo al terreno non non proprio perfetto. Esatto anche perché Giuliano ha giocato gran parte delle partite al al allo stadio del del Lido e da poco è ritornato al Fadini per cui ha giocato sul sintetico adesso da poco è ritornato al campo in erba però io ho seguito il Lanciano contro la Torrese tra l'altro in quell'occasione il Lanciano ha fatto sua la partita e non mi è sembrata assolutamente una squadra di bassa categoria o meglio di bassa classifica ha un impianto di primo livello gioca bene a due centrali tantissimi come Daleno Scipioni a un un esterno come Rei a un attaccante come Bocchio che il gol gli fa e soprattutto a un fortiere come Elezai che è bravissimo per cui sarà adesso c'è Stefano Bellè quindi eh in panca ha messo anche un po' di tranquillità per quanto riguarda la guida tecnica per cui il Lanciano sarà sicuramente protagonista nel risalire posizione di classifica. Secondo Tenzo eh un 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 orecchio verso verso l'Aquila eh lo metterà il mister anche ovviamente guardando la classifica oppure eh tutto spento nessuna notizia ma attaccare a testa bassa per tentare l'impossibile cioè raggiungere la vetta della classifica. No conoscendo il mister si dedicherà anima e cuore ehm alla alla propria squadra ai propri ragazzi. Il resto e te lo dico anche davvero eh Giulianova il resto non conta. Per il momento è importante far venire su questa squadra. Non si guardano eh né Avezzano né L'Aquila né Cupello né Lanciano eh né Torrese che pure hanno i numeri hanno hanno giocatori. In questo momento è importante che la squadra venga su bene e sana. Poi tutto quello che si può raccogliere eh più in là si raccoglierà. Perfetto grazie Enzo grazie a a Claudio Cicchi in bocca al lupo per domani direttore. Crepe il lupo Lorenzo grazie a te. Un saluto come Claudio? E saluto tutti gli ospiti in particolar modo Marco Donatangelo perfetto. Perfetto grazie. Ciao. Grazie grazie eh Claudio. Grazie Marco e in bocca al lupo l'avevamo detto un'ora poi ti mandiamo a letto altrimenti eh torti arriva fino a qui a tirarci eh le orecchie e qualcos'altro anche se lo conosco bene. Va bene grazie l'orlo. In bocca al lupo. Un saluto enorme anche a Angelo Liberatore nostro collega giornalista a tutto tonno che ci ha dato anche delle info sotto aspetto eh medio. Grazie grazie a te Lorenzo. Grazie a te Lorenzo. Grazie ad Angelo. Grazie ad Enzo De Dominici. Grazie a te Lorenzo. Grazie a Gianno. Per questo match davvero molto ma molto eh interessante. Insomma è la decima eh giornata. Ve la faccio rivedere prima di chiudere. Eccolo qui. Il prossimo turno. Capistrello Alpatriati. Capupello Pagigalupo. L'Aquila Avezzano. Lanciano Giulianova. Monti Silvano Sambuceto. Penne Delfino Curi Pescara. Ponte Romano. Casal Bordino. Spoltore Torrese. E Villa duemila quindici Angolana. Insomma è il decimo turno di eccellenza. Un eccellenza eh che dà emozioni giornata dopo giornata. Noi eh la seguiremo su Diretta Calcio e poi con Sottoporta d'Eccellenza alle ore eh diciotto su Rete Otto canale eh dieci del eh digitale terrestre sulla eh tv Ammiraglia eccellenza on air termina a qui è stata una bella puntata abbiamo eh ovviamente ripercorso la giornata passata ma eh ovviamente l'occhio di riguardo la lente di ingrandimento eh letteralmente posata sui match di domani su tutti il derby storico tra l'Aquila e Avezzano. Eccellenza on air termina qui un caro saluto una buonanotte da Lorenzo Valeriani io vi aspetto eh sabato prossimo sempre alle ore ventidue circa su Rete Otto Sport il canale undici del digitale terrestre. Buonanotte. Grazie a tutti. Grazie a tutti.